Hanno aperto la porta e di fronte si sono trovati una situazione di degrado assoluto. Un'anziana che viveva tra i rifiuti, resti di cibo, scatole di medicinali ed addirittura escrementi di gatto. L'amico ha quattro zampe che le faceva compagnia. E' successo a San Giovanni Valdarno dove ieri c'è stato un blitz all'interno dell'hotel River. Carabinieri, agenti della polizia municipale, vigili del fuoco, tecnici dell'ispettorato del lavoro e dell'asla Toscana Sud-Est hanno passato al setaccio la struttura di via Fratelli Cervi, constatando situazioni igienico-sanitarie decisamente precarie. La situazione più grave è indubbiamente quella della 78enne ritrovata all'interno della sua stanza in condizione di degrado assoluto. Per lei si è reso necessario il ricovero all'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso. C'era una confusione totale, roba accatastata, avanzi di cibo, avanzi di pasti che erano tenuti sopra dei tavolini. La pulizia sia della camera in generale, ma anche delle lenzuola, coperte, cuscini, non era quella ottimale. Altre irregolarità attualmente al vaglio degli inquirenti sarebbero state riscontrate anche nel resto della struttura, che conta una cinquantina di camere. La proprietà al momento le spinge ogni accusa. Noi siamo dell'idea che quella struttura va chiusa per come è oggi. Poi se i proprietari faranno degli interventi di risistemazione e di adeguamento a tutte le condizioni su cui ci sono stati dei rilievi, non la vieta che quella sia una struttura che continui a poter svolgere un'attività, però non in quel modo.